Allo spaccio alimentare in via degli Etruschi 2, strada statale 106 a merito Porto Salvo, tantissime offerte. Alcuni esempi, birra Drer 33x3 1,49 euro, passata a valfrutta 2,99 euro, petto di pollo 5,99 euro al chilo, grana a padano 79 centesimi letto, prosciutto cotto senza polifosfati 79 centesimi letto, formaggio Bavarella 1,99 euro, caffè Lavazza 1,5 chilo 3,49 euro, pan carré mulino bianco 59 centesimi, biscotti mulino bianco 1,39 euro, pasta di bella 1,69 chilo, coca cola in lattina 50 centesimi, fustone General 6,90 euro, 12 cornetti algida 4,99 euro, spaccio alimentare in via degli Etruschi 2, strada statale 106 a merito Porto Salvo.